Il ministro delle infrastrutture Salvini taglia i fondi al Sud per finanziare le opere del Nord, in particolare di Piemonte, Lombardia e Veneto, inserite nel PNRR. E' bastato un articolo apparso ieri sull'edizione online della Repubblica per dare nuovamente fuoco alle polemiche. La notizia infatti non è inedita, ma era già venuta fuori qualche settimana fa, portata a galla da alcuni parlamentari del PD in un'interrogazione e ripresa anche dalla Gazzetta del Sud. Tutto ruota attorno ad una rimodulazione di interventi per complessivi 2,5 miliardi che determinerebbe il definanziamento di alcuni progetti, anche in Calabria, segnatamente la velocizzazione della linea La Mezza Terme-Catanzaro e della linea Sibari-Portosalvo. Repubblica cita la stessa interrogazione parlamentare del DEM Marco Simiani per capire, dietro le scelte del ministero che trasferisce soldi veri al Nord, mentre il suo vertice è impegnato nella campagna mediatica per il Ponte sullo Stretto, quindi specifica che i dati di questa rimodulazione sono stati messi nero su bianco in informativa del Ministero delle Infrastrutture, inviata al CIPES, il vecchio CIPES, il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica. Gli interventi depennati sono stati individuati d'intesa con Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero dell'Economia è stato scelto un pacchetto di interventi per i quali lo Stato progettuale non consente di bandire le gare entro il 2023, progetti che vengono quindi definanziati, tra questi la linea ferroviaria Roma-Pescara nella tratta Interporto d'Abruzzo-Chieti-Pescara per 568 milioni di euro e nella tratta Sulmona-Vezzano per 277 milioni di euro, ma anche la valocizzazione della linea La Mezza Terme-Catanzaro e della Siba di Porto Salvo in Calabria, definanziata anche linea Firenze-Pisa per 299 milioni. Dal Ministero delle Infrastrutture comunque assicurano nessuna delle opere immaginate nelle PNRR ereditato dall'attuale governo verrà cancellata al massimo, saranno finanziate con altri fondi per rispettare gli accordi con l'Unione Europea e assicurare la realizzazione dell'infrastruttura.